Abbiamo qui un Federico con un asco e fatta audacia E sta cercando di pulire il gelato che si è rovesciato sui pantaloni e sulla maglietta Però alla fine l'ho mandato giù tutto, cioè mi sembravo Sascio No, ma comunque non c'è fila No Bene, siamo qui con l'autrice di questo viaggio, la signora Patrizia Barsotti In arte mamma Ci dica le sue impressioni Sono contenta che siamo riusciti a far venire anche Federico Grazie, grazie per la sua collaborazione, noi ci rivediamo più tardi Per chi non l'aveste ancora capito ragazzi, siamo in partenza Ve lo diciamo? Ufficializziamo? Perfetto A parte le luci bestiose, siamo in partenza verso la Sardegna, ve l'avevo già detto in un vlog E oggi è un maniaco sessuale mio cugino Non che io sia da meno, per carità, però tieni bene questo telefono, non lo far cadere Perfetto, noi ci rivediamo a Cagliari dove arriveremo tra un paio d'ore e quindi, giusto, stop, perfetto E niente, volevo comunicarvi questa cosa, farò un po' di brevi clip Adesso speriamo di partire, che l'aereo non casca Comunque, può essere, noi ci rivediamo a Cagliari, a tra poco Siamo in aereo e lui ha paura perché è il suo primo viaggio Il suo primo non ha mai preso l'aereo, si sta cagando in mano Moriremo più sopra Cioè io neanche quando ho trovato i tozzi ero così fomentato, però vabbè Un'adrenalina incredibile Bene Ti inquadriamo le scarpe Basta Siamo qui a Cagliari Siamo a Cagliari, vorremmo anche prendere i bagagli, possibilmente Magari ci hanno rubato la borsa Che dici, si sente quello che diciamo? Che famoso che mi hai dato Si ma, sta parlando al telefono, mi manda Allora, mettiamoci in una posizione popola Magari ci hanno anche fottuto le borse Sì, questo è la terrorificazione del terrorismo Ma vabbè, a parte di prima, non è che avevo paura dell'aereo Era la prima volta che ci viaggiavo, quindi ero un po' eccitato Considerando che poi al decollo si è letteralmente cagato in mano No, era divertente Era divertente, guardate l'aereo con cui abbiamo viaggiato Spoiler all'Italia Bene ragazzi, per questo video è tutto No vabbè, sto scherzando Allora, volevo dirvi che, perché non l'abbiamo ancora capito Cioè, noi ne abbiamo parlato prima Però volevamo essere appunto più precisi Siamo qui in Sardegna Io perché faccio questo video a cazzo? Perché io sono alfa Perché, sì, intanto sono con lui Volevo dirvi che nei prossimi giorni uscirà un vlog Nel quale vi spiegheremo un po' di cose Quindi restate sintonizzati sul canale Non mancate Noi comunque vi salutiamo qui Linea allo studio Sto video lo vedete probabilmente stasera E quindi niente Visto che siamo ACBA Che in realtà sarebbe ACAB ACAB Alle 5 al bar E dopo dobbiamo andare al bar Ma alle 5 e so se arriviamo Sì Arriviamo Vabbè, adesso però andiamo a pranzo Perché ci abbiamo un po' di fame Che dici, salutiamo? Fa il saluto ACAB No, non è partito Sì, è partito Bene, ci siamo fermati Alla vostra qualcosa Destra o sinistra Vedete Duracell Duracell, saluta la telecamera Lei praticamente non si esaurisce mai Il mica batteria non esaurisce Ah, ma funziona Quindi siamo qui di nuovo Tornati Io Ma cosa vuoi? Ma cosa ti suoni? Ma chi sei? Ma perché ci sei? Detto questo ragazzi Noi siamo qui in Sardegna Con la siffata audacia di Alpha Meglio conosciuto come Tiger Shark 1901 Mi dica La Mrs. Duracell Si è rotta la cuffia Un filo Ah, non la batteria? No, la batteria non si rompe mai Una cuffia Con il filettino dentro Tu pensi che si possa riparare? Tu sei uno tecnico? No Direi di no Direi di no Nel dubbio Però adesso vediamo Adesso ce la faccio vedere Adesso vediamo Comunque Dura risaluta i nostri tifosi Perché giustamente noi Ciao E noi ci vediamo in serata ragazzi Bella Allora Teoricamente siamo arrivati Di conseguenza stiamo per scendere Cioè stiamo scendendo in questo momento Per fare un aperitivo Per prendere un aperitivo Stavo dicendo io Stavo dicendo io Scusa Giustamente visto che noi siamo Acab e notturni Andremo a ubriacarci Violentemente No vabbè Appoggiamo il mio lito Cosa che abbiamo appena fatto Per registrare questo video E' chiaro che L'abbiamo appoggiato Ora lo andiamo a riprendere Non mi si vede quindi Dovrò tenere tutto così No vabbè A parte gli scherzi La prima sera ci andremo a leggeri Ciao a voi La prima sera ci andremo a leggeri Però Giunge al termine Questo tour Roma Arvadax Visto sia Alla serata Io In corso Gli ho già detto Vi porterò un vlog Nei prossimi giorni Quindi Diciamo che questo video L'ho fatto Più Più che altro A cazzeggio Diciamo Per Descrivervi un po' Questo viaggio insieme E Niente Noi ce la spastiamo Altamente fino al 15 Quindi vi salutiamo Nei prossimi giorni Sarò comunque attivo Sulla pagina facebook Avrete quel famoso vlog Però Però Lasciate immediatamente Una domanda Per Il Facchiu Lasciate una domanda Per il Facchiu Time Nei commenti Per me Per Alfa E E niente Anche solo per me Cioè magari rispondiamo 8 e 2 Nel senso se non volete lasciarla a lui Però comunque L'importante è lasciare tante domande In modo che registriamo Anche il Facchiu Time Io adesso vi saluto Vi salutiamo Questa volta per davvero Lasciate un like Lasciatemi le domande Per il Facchiu Time Se non lo siete già Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Presto Con i prossimi video E Ci diciamo gente E Viola Che Grazie per la visione!